Lo scorso 22 maggio il WWF Italia ha lanciato una petizione per chiedere l'istituzione del Garante della Natura, una figura che sul tema natura possa svolgere funzioni regolatorie di vigilanza, di controllo e monitoraggio, di accertamento e di risoluzione dei conflitti. La petizione questa mattina è stata presentata con i referenti delle aree protette presenti in Abruzzo, il presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Giovanni Cannata, il presidente del Parco della Maiella, Lucio Zazzara, il presidente dell'Assemblea dell'Area Marina Protetta a Torre del Cerrano, Robert Verrocchio, il direttore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Alfonso Calzolaio, il presidente del Parco Regionale del Sirente Velino, Francesco D'Amore, insieme con il vice presidente del WWF Italia, l'Abruzzese, Luciano Di Tizio. Zazzara, fronte, mi viene a dire, più che mai compatto? Beh, certo, insomma, noi abbiamo una bella collaborazione con le associazioni ambientaliste, soprattutto con il WWF, con le Gambiente. Questa volta si tratta di condividere una posizione, diciamo, di carattere generale rispetto a una situazione che è in forte evoluzione in questo momento e che richiede un cambiamento di punto di vista, un cambiamento di ottica e probabilmente anche il Ministero della Transizione Ecologica deve cercare un registro più adeguato al governo della situazione attuale. Il WWF Italia ha presentato formalmente la petizione al Senato e alla Camera per sostenere la necessità della figura del Garante della Natura, in linea con il nuovo spirito delle norme costituzionali in materia di ambiente, sancito dalla recente riforma degli articoli 9 e 41. E adesso chiede ai cittadini di sostenere questa proposta con una petizione popolare che è possibile sottoscrivere all'indirizzo www.it slash Garante Natura. Noi crediamo che sia il momento di esercitare un'azione di diverso governo e quindi è necessario un soggetto che possa avere uno sguardo terzo. Diciamo così in sintesi un ruolo super partes. Direi proprio di sì, come quello che è proprio del Garante di tutti i settori.